Sono Fabrizio Antonelli e sono responsabile del laboratorio Skill di Telecom Italia a Trento. Ci occupiamo principalmente di elaborazione di grosse moli informative e sono parte della giuria del contest di Stato. Mi interessa l'open data perché noi ci occupiamo principalmente di analisi grosse e frossi di dati, in particolare i big data e gli open data sono stati un po' il precursore dei big data, ne sono una parte fondamentale, quindi per noi ricoprono un interesse particolare. Ritengo che siano importanti perché danno rappresentazione estensiva del territorio, sono informazioni che per anni non sono state accessibili ed ora finalmente lo sono e permettono di monitorare l'evoluzione del territorio da diversi punti di vista. rappresentano sicuramente un patrimonio importante per capire, per pianificare sia dal punto di vista business, sia dal punto di vista dei servizi, che cosa ci riservano le smart city e il futuro. Credo che la condivisione della conoscenza voglia dire mettere in fondo insieme le tessere di un patrimonio informativo che ci appartiene come collettività, quindi di contribuire a ricreare la conoscenza e il patrimonio che ci appartiene. Invito tutti a partecipare al Contest Data Challenge perché rappresenta un'ottima opportunità di dimostrare che i dati aperti, gli open data possono davvero funzionare, possono davvero diventare il mattoncino fondamentale per costruire i servizi e per costruire le opportunità per migliorare i nostri territori e per migliorare la qualità dei servizi come cittadino. Grazie a tutti!